Il Tardisalerno ha bocciato i ricorsi del Comune di Eboli e del Liceo Classico Perito che si erano opposti all'istituzione della sezione ad indirizzo classico presso il Liceo Scientifico di Battipaglia Enrico Medi. Secondo i giudici del Tribunale Amministrativo, il Comune di Eboli non può contestare il provvedimento datato 13 luglio 2017 con il quale il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania assegnò i docenti per avviare una sezione classica al Medi di Battipaglia. La pubblicazione delle due sentenze, spiega la sindaca francese, pone fine ad un'annosa vicenda condotta un po' troppo su istanze di municipio piuttosto che in una logica di crescita culturale, didattica ed economica di un'area vasta. Al di là di tutto rimane la soddisfazione nel prendere atto che anche per il giudice amministrativo l'operato della dirigente del Medi era corretto e che il Liceo Classico a Battipaglia è ormai una realtà e diventa un'opportunità culturale e di crescita per tanti giovani della nostra città.